Singolare salvataggio per i vigili del fuoco della regione Marche che nei giorni scorsi hanno aiutato una tartaruga a riprendere il mare. Nello specifico un esemplare di Caretta Caretta era rimasto aggrovigliato in una rete di plastica a 3 miglia dalla costa nella zona davanti a Torrette di Ancona. L'animale è stato liberato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. I pompieri hanno tagliato la rete e controllato che la tartaruga non avesse ferite. Vista la grande vitalità dell'esemplare lo hanno direttamente liberato in mare. Non è stato necessario infatti il ricovero presso un centro veterinario di riabilitazione in quanto la tartaruga non presentava segni di lesioni e difficoltà nei movimenti. Il video diffuso dall'ufficio stampa dei vigili del fuoco è presto diventato virale anche in rete sui social con molti utenti del web che hanno condiviso le immagini pubblicate sul sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie. 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 Grazie.